Janet! Che c'è? Vi è caduta la forchetta. È meglio lavarla. Te ne prendo un'altra, eh? Ciao. Ciao, mamma. Come va, tesoro? Ci hanno fatto aspettare per ore in ospedale. La mamma era così depressa, non riuscivo a lasciarla. Allora, chi ha vinto la gara? Noi. Ah, che bravi! Sì, grazie. Ma che succede? Ecco, se ci fossi stata, lo sapresti. Cosa? Ho battuto il record dei 400 metri. Ehi, che meraviglioso! Che bello! Congratulazioni. No, è stato fortissimo. E adesso, pensa, deve andare a fare delle fotografie per i giornali. Già. Mamma, avresti dovuto esserci. È stato fantastico. No, tesoro. Sono proprio fiera di te. Grazie.